Oggi è il 25 aprile e noi celebriamo il 75esimo anniversario della liberazione d'Italia insieme ai nostri amici americani, ospiti e alleati. I nostri fratelli e sorelle americani attraversarono l'oceano per aiutarci a liberare la nostra amata patria dalle prese del fascismo durante la seconda guerra mondiale. Il popolo italiano ci ha accolti con la loro ospedalità straordinaria perché, nonostante fossimo avversari, noi condividevamo una visione comune, pace e fine della dittatura. Gli italiani, con audacia, si unirono a noi per la loro liberazione. I napoletani, inclusi i bambini, coraggiosamente imbracciarono le armi contro i loro oppressori nazisti dal 27 al 30 settembre 1943, aprendo la strada agli alleati per continuare la loro avanzata verso nord. Esattamente come superammo la tirannia ed il fascismo con l'aiuto dei nostri amici americani 75 anni fa, noi oggi supereremo questo nemico invisibile. Anche se gli americani sono ben lontani dal loro coronavirus outbreak domestico, la loro presenza, l'aiuto e l'impegno per il nostro paese sono solidi più che mai. Siamo stati ispirati allora e siamo ispirati adesso dalla resilienza dei nostri fratelli e sorelle palatani e italiani. In onore dei nostri amici italiani, degli ospiti e degli altri, siamo onorati di seguire il canto degli italiani. Andrà tutto bene. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.